Questo momento di festeggiamento per i 50 anni della presenza dei Kaskirowski sarà anche un momento di solidarietà per le popolazioni terremotate. Lei è stato sui luoghi colpiti dal terremoto proprio in rappresentanza dei Vigili del Fuoco della provincia di Salerno? Sì, noi abbiamo voluto organizzare proprio questo evento, c'è un concerto in beneficenza proprio per dare una solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma. Io sono andato i primi giorni, dopo cinque giorni che era successo l'evento, perché abbiamo dato il cambio ai colleghi che erano partiti da Salerno. Quindi anche le sedi distaccate sono state coinvolte e siamo arrivati ad Amatrice. Noi eravamo in tre dal distaccamento di Vallo e poi si sono succeduti anche altri colleghi. Abbiamo vissuto praticamente quel dramma particolare, perché praticamente noi siamo arrivati in un momento dove era tutto distrutto e quindi dovevamo recuperare i beni di prima necessità a quelle persone che effettivamente ne avevano bisogno. Già le persone decedute o quelle salvate erano state tratte dalle macerie, però purtroppo poi tutto il resto bisognava recuperare i beni che la popolazione aveva necessità delle prime cose che aveva bisogno. Abbiamo partecipato a questo evento, è un po' disastroso e quindi abbiamo pensato in questa maniera di dare una solidarietà maggiore anche perché noi siamo operatori che sono intervenuti nelle prime fasi emergenziali e stiamo continuando a dare manforte a quelle zone. Adesso alcuni colleghi stanno ad Amatrice, alcuni stanno a Norcia, alcuni li abbiamo dislocati in altre località perché effettivamente c'è bisogno della presenza ancora di personale. Quindi anche da Vallo sono continuati a susseguirsi gli avvicendamenti di personale. Quindi il 9 ci sarà questo momento di solidarietà con un concerto? Sì, il 9 abbiamo pensato di allietare la città vallese e tutto il Cilento e chi vuole intervenire con l'ascolto di questo concerto che è stato organizzato da noi insieme al Conservatorio Goitre di sede di Decentrata di Salerno per proprio i fiati del Cilento, sono i ragazzi, gli allievi del Conservatorio che ci allieteranno della loro musica e della loro esperienza professionale in campo musicale e quindi poi il ricavato, siccome metteranno offerte libere il ricavato va proprio per le popolazioni colpite dal sisma. Un momento in più per unirsi ai vigili del fuoco? Un momento in più per accrescere quell'accostamento all'istituzione e quindi anche ai vigili del fuoco.